per fare un video zucchero a manca zucchero 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 ci voglio vedere come si crema il bicchiere guarda che cazzo ci vengono ma sti impastardi come visti guarda 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 come si vinti ma è bellissimo si squaglia tutto guarda però hai visto se soffi si squaglia di meno è vero no perché c'è lo zucchero prima dici che era amaro era più cattivo si perché quello zucchero aspetta che mi sposto uno dei caffè più belli che abbia mai visto in vita mia guarda che coppetta questa è la coppa del nonno